buongiorno a tutti cari ragazzuoli benvenuti o bentornati nel mio canale oggi siamo qui con un nuovo video dedicato agli sconti e alle offerte che possiamo trovare in giro per negozi e per il web vi comunico già che alcune sono veramente golose e veramente importanti quindi io direi di non perderci tanto in chiacchiere e vedere assieme cosa offre in questi giorni appunto cosa offre il panorama scontistiche per quanto riguarda i videogame a 360 gradi quindi io partirei subito con l'ultima notizia che mi è giunta proprio in questi giorni ovvero che un euro da domani 17 come vediamo dal da questo appunto pezzetto di volantino sconterà tutti i giochi presenti all'interno del loro negozio fino al 50 per cento è una cosa molto interessante perché se faranno come le precedenti offerte appunto già fatte da un euro c'è la concreta possibilità di fare molti molti affari e di portare a casa numerosi giochi a prezzi veramente veramente vantaggiosi quindi io vi consiglio già da domani se avete quei cinque dieci minuti di tempo libero di fiondarvi in qualsiasi uni euro perché appunto ripeto c'è la possibilità di fare grandi grandi affari poi ora passiamo agli sconti digitali che si possono trovare sugli store in questo momento playstation 4 e xbox one relativi appunto al al programma ea sports ea origin e electronic arts in generale perché come vi avevo detto nell'altro video erano stati appunto messi in precedenza su origin appunto su pc ora li possiamo fruire sia su playstation 4 e sia su xbox one quindi come sempre facciamo una rapidissima carrellata di cosa questi sconti ci andranno ad offrire qua appunto ricordo che su playstation store parliamo di playstation 4 playstation 3 e playstation vita barra psp come possiamo vedere subito troviamo un need for speed a 22 euro e 99 che è un signor prezzo per un gioco abbastanza nuovo abbastanza recente così come fifa 16 che è già sceso molto cioè a 19 99 ok che adesso fra poco uscirà quello nuovo però magari 20 euro ci si può anche fare un pensiero pezzo forte di questi sconti così come avevo detto all'epoca per la versione pc è il bundle battlefield 4 battlefield arline qui proposto appunto in un bundle con tutti e due giochi assieme alla interessantissima cifra di 8 euro e 99 quindi per 9 euro avere avere sia battlefield 4 che battlefield arline io signori ci farei un concreto pensiero poi andiamo avanti velocemente abbiamo il solito battlefront ecco un altro titolo veramente veramente valido e che consiglio a tutti di acquistare come vedete io ho già prontamente effettuato l'acquisto è unravel questo bellissimo platform dalla grafica particolare platform misto puzzle in cui noi avremo questo omino di lana e dovremmo guidarlo attraverso vari livelli appunto sia di platform e sia di puzzle è un titolo molto molto interessante e adesso viene proposto alla eccezionale cifra di 7 euro e 99 per gli utenti plus e comunque io vi ripeto io se fosse in voi lo scaricerei seduta stante poi cosa abbiamo abbiamo una serie di titoli per playstation 3 perché chi magari non è non è ancora passato alla next gen ma comunque ancora gioca con la generazione precedente di console quindi abbiamo gli army of 2 anche qui abbiamo il bundle di battlefield 4 e battlefield arline poi cosa abbiamo abbiamo a tutta una serie appunto di giochi basati sull'universo di battlefield di dlc e di di altre 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 cose appunto sempre legate al all'universo battlefield come vediamo qua c'è solo l'imbarazzo della scelta se amate questa saga abbiamo battlefield bad company 2 e bad company 2 vietnam che anche anch'essi sono dei giochi molto molto interessanti poi cosa abbiamo abbiamo ball storm grandissimo gioco forse un po sottovalutato ma anche questo vi posso assicurare signori che è un gioco molto 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 interessante qui fa prosto a 6 euro ed è un prezzo abbastanza abbastanza valido abbiamo il sempre verde burnout paradise poi andiamo avanti vabbè che dopo comunque ve li lascerò spulciare qualora foste interessati ve li lascerò spulciare a voi in modo più in maniera più cauta così magari potete vedere con calma tutto quello che viene che viene proposto abbiamo elise modern returns a 5 euro abbiamo i crisis per chi magari non li avesse ancora giocati ed è ancora su playstation 3 4 euro il primo crisis 5 euro il secondo e 6 euro e no mi sembra 5 euro anche il terzo adesso non me lo da perché l'ho acquistato comunque sono prezzi prezzi molto molto vantaggiosi e poi appunto come dicevo ci sono tutta una serie di giochi dantes inferno i vari dead space voi ve li vedete con calma comunque vi lascerò il link in descrizione per poter vedere tutti i giochi appunto da pc e poi eventualmente comprarli dai relativi store di playstation 4 o di playstation 3 abbiamo anche dragon quest inquisition e via via dicendo dai poi ripeto se vi interessa ve li passate voi voi con calma passando dal lato xbox i diciamo i giochi sono più o meno gli stessi sono meno però i prezzi sono equivalenti qua purtroppo non me li da da vedere perché sono esclusivi per gli utenti gold io non essendo gold su xbox one o su xbox 360 non ho la possibilità appunto di vedere i giochi con l'effettivo sconto già applicato comunque vi posso assicurare che i prezzi sono gli stessi che abbiamo visto poc'anzi su sulla piattaforma playstation qua diciamo in più abbiamo forza horizon 2 forza 5 scontati del 50 per cento abbiamo anche qua appunto battlefield 4 e battlefield online sempre a 5 euro cada uno e ecco nota molto importante passando al sistema xbox 360 per chi non lo sapesse c'è la possibilità di scaricare tech and tag tournament 2 completamente gratuito sempre per chi ha sottoscritto un abbonamento gold e comunque se anche avete l'xbox one sappiate che rientra questo gioco rientra nel programma di retro compatibilità e quindi lo potete giocare tranquillamente anche su xbox one ripeto in formula completamente gratuita quindi qua abbiamo appunto anche gli ssx anche qua abbiamo i crisis abbiamo un crash un crash mind over mutant scontato del 75 per cento kingdom of amalur reckoning scontato anch'esso al 75 per cento e un forza horizon per 360 scontato del 75 per cento ripeto questi questi sconti qua sono validi fino mi sembra al 28 di giugno almeno per quel che riguarda playstation ma credo che anche e anche per microsoft sia lo stesso ma voglio ritornare sulla notizia di apertura e quindi raccomandarvi ancora una volta di domani passare da un euro per vedere se appunto c'è la possibilità di portare a casa numerosi giochi per qualsiasi piattaforma pc playstation 4 e xbox one a prezzi veramente veramente vantaggiosi l'offerta di un euro mi sembra che valga fino a fine mese o giù di lì quindi niente questo era un breve video di appunto volto a segnalarvi gli sconti che come ormai saprete io voglio appena so qualcosa voglio condividere con tutti voi perché è bello giocare ma è ancora meglio se lo facciamo spendendo il meno possibile quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e sia di vostro ingradimento qualora lo vogliate passate nella mia pagina facebook e lasciate un piace che trovate sempre in descrizione se lo ritenete opportuno mettete un like a questo video condividete e iscrivetevi al canale noi ci vediamo ad un prossimo video di sconti con altre segnalazioni per spendere poco e giocare alla grande e noi ci rivediamo come sempre ad un prossimo video ciao ragazzuoli